Benvenuti in questo nuovo giocio che si chiama... che schifo! Non so di cosa tratti... Ciao, benvenuto... nel mondo dei pokémon mi chiamo... è uguale... mi chiamo... Alp... Alp... ok... Per sicurezza... COSA?! Scusi? Sì... Dio... Yeah! Cos... no aspetta... Va là! Posso trasformare PC in... PC! Credo salverò spesso... Eeeh... Ciao! Benvenuto nella zona Rocket! Ok, sono un membro del team Rocket, a quanto ho capito... Buongiorno... Nougat... Cos'è? Ok, vai! Yeah! Questo gioco effettivamente non ha un senso logico... No, tu non sei un Char... Ma... 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 No! Mmmmm... okay! Eeeh... 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 oval... Scusa... Eeeh, cosa devo fare poi? Eeeh... eh eh c'è nessuno scusi bello schifo e lo chiamo cusci tiè ciao come ti posso aiutare ah così ok grazie cosa ecco è lasciato ancora buon dio ci sto per la credo sia uno dei migliori dialoghi mai scritti nella storia del hacking internazionale ok è tempo di fare una piccola prova con questo ha uno script giovanni show contest win co cosa co 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 cosa co 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 che che no dai tempo di morire facciamolo un'ultima volta si buongiorno vorrei proprio curarli si 3 2 1 questo sì che è un suono soave è un suono soave